Il viaggio tra le leggende, passato, presente e futuro, che si mescolano in un cortometraggio di Simone Corsaro e Luigi Massimo Nappo e che ci fa immergere nel cuore dei campi flegrei una scoperta di tesori nascosti dell'anima ma soprattutto del cuore. Il viaggio tra le leggende nasce proprio per accompagnare i giovani di oggi alla lettura, quindi il luogo in cui viene fatto è proprio la biblioteca, la biblioteca Don Peppino Ragno. Un piccolo spoiler che posso farvi è proprio quello che appunto di questo giovane ragazzo, cioè io, che appunto vivo le leggende attraverso dei libri. Così rivivendo tutto il passato senza avere i paraocchi che oggi molti giovani tendono ad avere e quindi abbandonando il passato e pensando soltanto al futuro. Quindi è passato, futuro, ma ovviamente anche presente, che parte proprio da qui, dal territorio Flegreo. Sì, parte dal nostro rione, rione Gersca, sotto il monte, dove c'è la nostra biblioteca Don Peppino Ragno, dedicata al nostro ex parroco. Noi siamo volontari della biblioteca, abbiamo partecipato a questo corto, a questo progetto che è andato in finale e noi siamo contenti di questa cosa che ci è successo. Grazie.